Sulle tasse Giorgia Meloni ha detto una cosa giusta, ha ragione, basta con queste tasse che ammazzano le imprese, bene, brava, bis. Ma chi è che ha aumentato le accise sulla benzina? Giorgia. Ma chi è che ha aumentato l'IVA sui prodotti per l'infanzia? Giorgia. Ma chi è che ha aumentato l'IRPEF agricola? Giorgia e il cognato, sempre in famiglia siamo. La verità è che su questo tema il governo predica bene e razzola male. Io ho una proposta secca, semplice. Cara Giorgia, facciamo un accordo per tre anni. Mettiamo tutti i soldi che un imprenditore può dare in più al lavoratore fuori dal perimetro delle tasse. Cioè? Cioè zero tasse per l'imprenditore che aumenta lo stipendio al lavoratore e zero tasse per il lavoratore che non scatta nello scaglione successivo dell'IRPEF. Regolarizziamo il fuoripusta. Si può fare, è semplice.